Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 35 si registrano 5 chilometri di coda tra Chiesino Zanese e Pistoia in direzione Firenze, rallentamenti invece per Curiose in direzione Pisa tra Pistoia e Monte Catiniterme, sempre in A11 in direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso anche tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Valdichiana e Fabro, code a tratti per traffico intenso anche in direzione Bologna tra Calenzano e Il Vivio con la variante di Valico. Città di Firenze in vista della partenza del Tour de France di domani si ricorda che a partire da oggi 28 giugno scatterà il divieto di transito in tutta l'area delle cascine e per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!